Sopra al luogo della sindaca Cecilia Francese in via del centenario dove stanno per concludersi i lavori idraulici al fiume Tusciano. Un intervento da 2 milioni e mezzo di euro finalizzato a scongiurare il pericolo di esondazioni. Abbiamo finito i lavori prima del tempo previsto senza avere contenziosi e soprattutto utilizzando tutti i fondi che ci sono stati dai dalla regione e dall'Europa senza basarci sulle casse del comune. Quindi è un'opera di ingegneristica completata, qui avevamo una chiusura, abbiamo rotto questo muro di cemento, abbiamo allargato il bacino e questo ci permette di contenere quando arrivano questa piena del fume in occasione delle piogge di torrenziali come abbiamo e questo bacino funge tipo da cassa di espansione quindi trattiene l'onda e permette di poter defluire l'acqua con minore forza. L'altra cassa l'abbiamo a Valle sul Ponte Clarizia. Questo intervento ci permetterà anche di rivedere le classi dei terreni qui vicino e diciamo la cosa che voglio rimarcare comunque è i tempi rispettati, aver speso tutti i fondi in un modo giusto senza aver fatto peso sulle casse comunali. Penso che questo sia un grande risultato ma sul fiume Tusciano abbiamo ancora intercettato altri fondi, abbiamo dei fondi di circa 300 mila euro per progettare altre opere di messa in sicurezza tra cui appurano gli interventi su piazza Cacciatore e con la costituzione di una ruota nuova rete fognaria nuova, non c'è mai stata quella che raccoglie le acque bianche in quell'aria. Qui potete vedere la scogliera con massi ciclopici, ovviamente va completato l'opera, ci sono quei tubi che vanno tolti e va fatto l'inerbimento con le talee esattamente come abbiamo visto nel Ponte Clarizio. Ma diciamo l'opera ingegneristica è completata, rimane solo quella naturalistica come si dice.